Come consuetudine, la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, diretta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nicolo Piave, si accinge a reclutare nuovi volontari per le sue molteplici attività sul territorio con la campagna In Più Ci Sei Tu. Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di reclutamento per volontari della Croce Rossa, che avrà inizio il 6 febbraio 2023 denominato Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana, online rivolto a tutti coloro che abbiano compiuto il 14esimo anno di età e che hanno voglia non solo di mettere in gioco le proprie risorse a favore dei vulnerabili, ma che siano motivate a sposare l'idea dei sette principi fondamentali, cardini statuali della Croce Rossa. Il corso della durata di 26 ore, di cui gran parte è in modalità online e in orari serali, oltre al tirocinio pratico, si svilupperà in sette moduli teorico-pratici, con lo scopo di fornire nozioni base sulla storia, peculiarità e specificità dell'associazione, far comprendere il ruolo del volontario al suo interno, la sua azione attiva sia locale che nazionale ed internazionale e sensibilizzare alla cultura del movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché far acquisire al futuro volontario la capacità di porre in essere i gesti salvavita. Le tematiche che verranno quindi affrontate riguardano la storia della Croce Rossa, il diritto internazionale umanitario, la strategia 2018-2030 ed un corso di primo soccorso con le parti pratiche da tenersi in presenza con misure anti-Covid. Al termine del corso è previsto il tirocinio pratico della durata di 30 ore da svolgersi nei servizi a cui sono abituati i neovolontari. Al termine del corso, coloro i quali hanno regolarmente frequentato il corso, saranno ammesse gli esami e superati questi al relativo tirocinio. Il direttore del corso è l'infermiera volontaria Santina Sonia Bognanni. Chiunque fosse interessato ad aderire alla nostra associazione, spiega il presidente della Croce Rossa italiana Nicolo Piave, può iscriversi combilando il modulo sul sito divendo un volontario comitato di Caltanissetta ed iscriversi online. Iniziamo il nostro corso, il nostro corso è successo di Caltanissetta ed iscriversi online. Grazie a tutti.